Sarà un derby di solidarietà quello di oggi al partenio tra Avellino e Benevento. Prima del match i tifosi del club bianco-verde di Montella consegneranno un assegno in favore della comunità di Amatrice nelle mani del sindaco Sergio Pirozzi che assisterà alla partita in tribuna Montevergine. Questa mattina il presidente dell'US Avellino, Gubitose, Walter Taccone, hanno voluto salutare il primo cittadino laziale. Amatrice e Avellino, due comunità unite dal dolore di una tragedia ma anche dalla voglia di ricostruire. La mia visita penso che era dovuta per tanti motivi, per la vicinanza della gente di Avellino, per la comprensione e perché poi questa è una terra che la sento vicina ancora di più oggi, io sono rimasto sconvolto da bimbo per quello che è successo all'epoca. Oggi spero di poter staccare per quei 90 minuti, io sono sempre seguito l'Avellino con simpatia perché ha rappresentato nella mia gioventù il simbolo dei poveri, tra virgolette, che mettevano in difficoltà i ricchi. Sono immensamente felice di questa cosa dei ragazzi, dei ragazzi di Montella che hanno pensato di fare autonomamente questa donazione, questa raccolta di fondi. È un segno di grande serietà, di grande onestà ma è anche di grande appartenenza alla popolazione e al territorio. In quella che lui definisce la sua precedente vita prima del sisma, Pirozzi era già stato al partenio come allenatore in seconda ai tempi dell'Ascoli e come spettatore in quell'Avellino foggia a spareggio per salire in B deciso da un gran gol di Rivaldo. Quel gol di Rivaldo a me ogni tanto mi fa pensare che può succedere anche con la tenacia e con la forza tipica del vostro popolo ma anche del mio che possiamo ricostruire diciamo a matrice.